Mi sembra ufficiale quasi da San Francisco che non incrocevate le prue, no proprio da San Francisco. Dopo sei mesi com'è tornare in barca a questi livelli? Prima di tutto c'è la gioia di tornare in barca, finalmente di vedere che non ho più dolore alla gamba dopo che mi sono operato al ginocchio. La prima regata è andata benissimo e siamo partiti dalla parte giusta, poi abbiamo avuto anche un po' di fortuna perché era abbastanza difficile. Non è che ci fossero stati grossi salti per noi, miravamo la boa e andavamo in boa. Però la giornata è faticosa comunque perché dopo sei mesi fare quattro prove in un giorno che non abbiamo mai fatto è massacrante per me, sono bello cotto. Vista la prima prova come avevi sottolineato ho vinto con grande margine e poi è venuto fuori il grande equilibrio che c'è all'interno di questa flotta, ci sono almeno 8-10 barche che sono veramente molto vicine. Quest'anno è così, ogni anno il Maggius 32 è bellissimo per quello perché il livello si alza sempre di più. L'anno scorso sembrava già altissimo a San Francisco, siamo alla prima regata della stagione, ci sono tutti team guerritissimi. In più abbiamo il mondiale qui in Europa quindi gli americani forti verranno qui da noi e si preannuncia la stagione stupenda. Cosa è cambiato a bordo di Belin? Immagino per voi una stagione piena, tutte le tappe e in più? In più Coppa del Re, pre-world e world, quindi questo è il nostro programma. Abbiamo cambiato un po' di persone a bordo però dietro siamo sempre io, Ruff e Flavio, quindi non abbiamo buttato via niente di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Siamo arrivati qui domenica scorsa, lunedì siamo usciti per dare un po' l'equipaggio, abbiamo preso dei bei giorni di vento che ci hanno aiutato e oggi non devo dire niente ai ragazzi per le manovre, sono stati bravissimi, strambiamo già bene, viriamo altrettanto bene e naturalmente abbiamo ancora un po' di gap da recuperare sui team che stanno facendo e hanno già fatto tutte le regate in America e sono ahimè più avanti di noi per mesi di uscita in barca. Grazie a voi.